Grazie per il vostro lavoro, soprattutto per quello nascosto, perdono per gli scandali che hanno colpito il Vaticano e prendetevi cura del vostro matrimonio e dei vostri figli. Così Papa Francesco si è rivolto ai dipendenti vaticani incontrati in Aula Polo VI per gli auguri di Natale. Il Papa ha ringraziato per l'impegno a fare al meglio le cose normali di ogni giorno e ha chiesto perdono per gli scandali, chiedendo però di pregare per le persone coinvolte perché chi ha sbagliato si ravveda e possa trovare la strada giusta. Il matrimonio è come una pianta, ha detto il Pontefice, che è viva e va curata ogni giorno. La vita di coppia non va mai data per scontata e il dono più prezioso per i figli non sono le cose ma l'amore dei genitori verso i figli e anche tra loro. Dunque prima di tutto coltivare la pianta del matrimonio che siete voi spossi e nello stesso tempo curare la relazione con i vostri figli. Anche qui puntando più sul rapporto umano che sulle cose. parlare con i figli, sentirli, chiedergli cosa pensano. Questo dialogo tra i genitori e i figli, fa tanto bene, fa crescere in maturità i figli. Puntiamo sulla misericordia nella relazione quotidiana tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelli e prendiamoci cura dei nonni. Il giubileo va vissuto anche nella chiesa domestica, non solo nei grandi eventi. Anzi il Signore ama chi pratica la misericordia nelle circostanze ordinarie. Questo voglio augurarvi di sperimentare la gioia della misericordia, incominciando dalla vostra famiglia. Grazie. 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 Grazie.